Meno interventi rispetto al passato, ma tra quelli effettuati tantissimi hanno riguardato giovani e giovanissimi e anche molte donne. Questo è il bilancio della Croce Rossa sezione di Sciacca relativamente all'ultima edizione del Carnevale. I volontari hanno realizzato anche un video, quello che state vedendo, per immortalare i momenti salienti della festa e il lavoro delle postazioni sanitarie. Gli interventi hanno riguardato in particolar modo soggetti che avevano abusato con l'alcol, purtroppo anche molti tredicenni, quattordicenni e ragazzine. Sono stati circa 300 i volontari della Croce Rossa italiana che hanno operato lungo il percorso della manifestazione. Non solo quelli provenienti da Sciacca, il cui delegato è Enzo Vita, ma anche quelli di Agrigento, Sambuca, Menfi, Licata, Mazzara, Alcamo, Mussomeli, Caltanissetta, Ribera, Canicattì e Casteltermini. I volontari hanno potuto contare su due postazioni mediche, una sita presso la sala Blasco del comune e l'altra presso i locali del poliambulatorio di via Gerardi, e su tre ambulanze, tra cui una medicalizzata. Il gran numero di volontari ha permesso di poter formare diverse squadre da 14 elementi, ed ogni squadra controllava una zona del percorso. Un bilancio sicuramente positivo per i volontari CRI, il cui contributo è stato di fondamentale importanza per la buona riuscita della manifestazione e per il supporto sanitario che, con competenza, sono riusciti a mettere in campo.